Totò, in gran forma anche ieri, numeri veramente belli, cioè anche il secondo gol che avevi fatto è stato un gioiellino. I giovedì stengono mani per cose di più, perché le squadre sono meno più forti che i giovedì che giochiamo la domenica, però sto bene, sto cercando di lavorare, cercando di lavorare la domenica è una battita più importante. Ti pesa il fatto adesso di essere al centro un po' di tutte le attenzioni, sei piombato al centro anche dell'attenzione nazionale? No, forse pesare non è il verbo giusto, comunque è una responsabilità in più che senti o sei rilassato da questo punto di vista? Sono sempre quello di prima, cercare di fare il mio meglio, cercare di lavorare con la squadra, cercare di fare il meglio per noi, per la società, per il nostro gruppo e migliorarci un po' tutti per fare qualcosa in più in campionato. Come hai accorto le convocazioni che compongono il maestro Dossena? Bene, perché stanno a fare bene, perché stanno a fare bene tutto il gioco che ho portato in Udilesi, si fa bene anche Dossena e a me si hanno fatto bene, però si meritava qualcun altro, però non male che le convocazioni venivano viste, perché anche Aigo sta a fare un bel campionato e ha cominciato a fare bene, però lui lo sa, sta a fare bene, speriamo che diventa anche bello la convocazione. Potrebbe arrivare, secondo te, se superate lo scoglio già a Glasgow, che diventa un amichevole, quella con gli olandesi, l'ultima gara, con i dilettanti, li chiamo io, potrebbe essere la gara per D'Agostino, se vi classificate prima di quella gara. Io vedo anche con la scossa, che è anche un giocatore importante. Con la scossa va sul sicuro, insomma. No, sì, è una battita importante, è una battita che noi abbiamo due risultati, però andiamo in scossa a cercare di fare l'Italia, è una battita che vogliamo vincere, perché l'accontentanza sarebbe dura dopo fare 90 minuti anche per pareggio. Tornando all'Udinese, domenica, si può dire che quella col Palermo è la prima partita chiave vera della stagione tra due squadre, che comunque ambiscono a diventare le prime forze dietro le tre grandi? Credo più il Palermo, no. Noi cerchiamo di fare la battita imbottata per vincere domenica, invece che noi, quella all'inizio dell'anno, cercherebbe di fare i 40 punti alla salvezza e poi vedere che viene tutto guadagnato. Hai fatto complimenti a Torstina? Sì, ma subito l'ho chiamato, gli ho detto che l'ho fatto complimenti anche a me, ci sono due giocatori che ce lo meritavano, ho chiamato, poi ho fatto anche bene a Torstina e questo mi fa piacere. Come si mette alle spalle un momento più difficile? Dio, addio, è una cosa che non lo so nemmeno io, è una cosa troppo brutta che speravo che non succeda a nessuno perché ho un bambamamamamba, tutto bene. Ancora un po' brutta. E' 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 un po' brutta. C'è un po' brutta. E' un po' brutta. E' un po' brutta. E' un po' brutta. potete migliorare anche voi noi si cerchiamo tutti i giorni qui in vista di migliorare facciamo qui dei giovani vecchi di dare una cosa in più perché sappiamo di valore questo squadro com'è ma è una cosa non male l'anno scorso ho avuto un campionato fantastico non male per l'attaccante a volte dire da 40 metri di valdente a volte fa 10 tiri lui deve stare tranquillo deve lavorare perché non c'è tante qualità e poi la qualità è solo lavorare e cercare di stare tranquillo questa è l'ambiente giusta per lui per lavorare e cercare di fare bene e noi lo aspettiamo tutti tu hai detto che questa è una squadra che ha detto che la sanità senza di te in campo però non sembra la stessa quanto ti senti indispensabile? ma solo per il numero perché c'è un'età di 30 anni la media è solo per quella no ma è una squadra che anche senza di me ha fatto il bene una squadra che nella piedra anche con pareggio andava bene anche a noi non male quando ci siamo tutti è stata una squadra forte perché anche quando c'è un botto a pizze sui giocatori imbottati melodinese noi siamo qui ognuno di noi di dare qualcosa in più per far migliorare la squadra grazie 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 a tutti